Venire fuori ovviamente da tre anni di clausura ha rappresentato una difficoltà ovviamente per noi che non abbiamo potuto avere il privilegio di vedere personalmente i nostri clienti e penso che anche per i nostri clienti sia stato un momento non sempre facile, quindi ritornare a guardarsi, a sorridersi, a darsi semplicemente la mano è per noi già questa una grandissima soddisfazione. Poi devo dire che in questi tre anni H è diventata una realtà grandissima, abbiamo raddoppiato sostanzialmente la grandezza della nostra azienda, siamo diventati una società conosciuta oramai in tutto il mondo con una tecnologia di assoluta avanguardia, quindi una tecnologia in cloud che permette veramente di rivoluzionare il lavoro degli ingegneri, degli architetti, dei geometri ma anche delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e siamo qua per presentare questa rivoluzione, siamo qua per presentare questa cosa straordinaria che dà ai nostri clienti un vantaggio competitivo assoluto e quindi siamo veramente contenti di poterlo fare, contenti di rivedere i nostri clienti e contenti di dargli questa opportunità che a mio avviso non ha uguale in tutto il mondo. Concretamente innanzitutto parliamo di una rivoluzione epocale perché tutti i nostri software cominciano ad essere dei software che lavorano in cloud, vuol dire che tutti i nostri dati sono gestibili da qualsiasi device, quindi senza più differenziazione di tablet o smartphone o desktop, possono essere gestiti da qualunque punto e quindi senza differenza tra ufficio o pubblica amministrazione o cantiere e possono essere gestiti in maniera collaborativa da tutti coloro che lavorano nell'ambito di un progetto, di una realizzazione di un'opera e di una manutenzione dell'opera. Questo aumenta la produttività del lavoro nel settore delle costruzioni e il controllo di quello che viene fatto sia nell'ambito della pregettazione che dell'esecuzione che soprattutto anche della gestione dell'opera pubblica, che sappiamo è la parte più venerosa poi dell'opera, soprattutto dell'opera pubblica. Oggi noi ci presentiamo qui quindi con una soluzione che copre a 360 gradi tutto quello che è il mondo delle costruzioni, con soluzioni completamente nuove per esempio per il facility management integrate con il mondo BIM e siamo, non temo diciamo di essere smentito su questo, probabilmente l'unica società al mondo che riesce a integrare applicazioni di facility management online con il common data environment, quindi con la gestione del processo BIM. quindi davvero il top a livello mondiale.